ciao ragazzi ed è che andiamo oggi siamo a cogoleto saluta bella lì che dire di cogoleto cogoleto offre una bellissima pista ciclabile in riva al mare mi faccio vedere un paio di robe andiamo se venire cogoleto perché c'è un giro da favola si estende per parecchi chilometri la pista ciclabile quindi vi fate davvero un bel giro e soprattutto vedete una meraviglia che non vediamo tutti i giorni se questo video vi è piaciuto mettete un like condividete e spero che qualcuno venga a visitare mi raccomando se visitate lasciate qualcosa nei commenti e fatemi sapere se vi è piaciuta la giornata ciao e al prossimo video allora dove va io sono sudato come una come una pista perché mi sono portato lo zaino che ho preso 3 tonnellate e si è portato da mangiare taglio taglio scusate